Ciao a tutti da Al Saludatore, una straordinaria sorpresa, ci troviamo qui a Davy Bowie Next International, veramente tu è la prima volta che vieni a Roma per un evento del genere? No, io sono venuto qui 40 anni fa, non conosco Roma molto bene, conosco più nord perché sono cresciuto sul lago Maggiore. Per me è un grandissimo onore, è una grande emozione avere un artista come te, Dan Achillespe, veramente un vero cuore, è un'emozione grande. Ecco, un ricordo del grande Davy Bowie. Io parlo di lui più tardi stasera. Ecco, perciò venite, noi siamo qui a Largo Venue. Io ho tante memorie di Davy Bowie, è impossibile dire uno adesso ma più tardi. Ecco, perciò non mancate, ti chiedo ovviamente un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono, ti salutiamo? Hello fans, è un po' freddo qui. È un po' freddo a Roma, ma a Roma è venuta con il freddo, ma a Roma poi ci sarà il grande calore, la grande energia sul palco che porterete tu e Dandy di Davy Bowie, perciò il freddo sparirà. Ah ok, no, stasera non fa freddo, forse è come un fuoco, speriamo. Sicuro, è sicuro. E io ti devo regalare una cosa che ci tenevo tantissimo, la manina del salutatore per te. Oh, cazzo. Questo per salutare tutti i tuoi fan. Ecco qua. Ciao. Ciao fans. Ciao. E un saluto ovviamente anche ai fans di Davy Bowie. Yes, hi David. He's up there somewhere, nel cielo. He's sicuramente qui stasera. Sicuramente. He's fantastico con i fans. Ma io ho conosciuto lui dalla comincia, tra 64 e 75. E' un periodo magnifico, perché io ho visto un uomo che è cresciuto. Bello. E' una grande stanza. Sauditario. Grazie. E poi tu hai conosciuto anche, io sono innamorato del grande Alberto Sordi. Ah, sì. Io ho fatto, ma è un piccolo ruolo nel fumo di Londra. Di Londra. Penso che ho fatto questo nel 63. Anno magico, no? Sì, sì. Io sono molto giovane e io ho suonato la gitarra. Devo vedere ancora il film, ma io non ho un copia a casa. Ah, bisogna vederlo allora, ecco. Sì, sì, sì. Spero. Io ero un attore magnifico. Il numero uno in Italia. Assolutamente. Non sfortunatamente, non molto conosciuto in Inghilterra, perché la lingua era il problema. Ma, no, lui era fantastico. Saluto anche a lui. A tutti. Alberto Sordi, grande. Io l'ho incontrata tanti anni fa e gli feci gli imitazioni. Feci, ah, uh, sei, che brutta avvertuccia. E chi ti ha chiamato? Bambina, torna a casa. Io avevo un po' una voce così. E l'ho fatto. Grazie, Dana, e un saluto a tutti quanti. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Grande. Complimenti. Ciao. Ciao. No.